Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. L'Asl Avellino ha spedito migliaia di utenti delle raccomandate con le quali si chiede il pagamento di prestazioni sanitarie e farmaceutiche usufruite nel 2014. In un'altra congiunta, Feder Consumatori, Ad hoc, Will e Cigelle pensionati denunciano che in queste missive viene genericamente comunicato all'utente che in base a presunte verifiche effettuate dal sistema tessera sanitaria, la posizione reddituale occupazionale per l'anno 2014 sui redditi dell'anno prima non coincide con quella autocertificata relativa al codice di esenzione e viene pertanto diffidato a pagare le somme contestate entro fine mese. Nel momento in cui l'utente decide di capirne di più, la missione, a quanto sostengono le associazioni dei consumatori, diventa impossibile perché ci si imbatte in una serie di numeri e lettere che alla fine non portano ad alcuna risposta e che si è recato presso il distretto sanitario di competenza per avere maggiori chiarimenti, è rimasto comunque deluso perché, dopo lunghe attese, avrebbe scoperto che l'impiegato dell'Asl si limita a ribadire quanto scritto nella raccomandata. Dalle informazioni assunte, continuano le associazioni dei consumatori, è emerso che gli accertamenti sono il frutto di un semplice incrocio di flussi informativi non sottoposti ad un effettivo controllo da parte dell'uomo. Tant'è che sono pervenute e anche raccomandate per soli 2 euro, dove l'utente è stato costretto a pagare 8 euro di notifica e 5 euro di spese amministrative. L'Asl dal canto suo risponde che il contenuto della nota inviata agli utenti riporta integralmente le informazioni che il Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmette all'azienda sanitaria attraverso la piattaforma Tessera Sanitaria. Con la delibera numero 546 2019, l'Asl di Avellino ha individuato in maniera capillare ufficie giorni per il ricevimento degli utenti che necessitano di informazioni ulteriori. Ma le competenze dell'Asl sono esclusivamente rivolte ad aiutare l'utente nella comprensione della nota ricevuta. L'individuazione dei motivi di contestazione restano di competenza esclusiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso i suoi strumenti di accertamento fiscale.